uscito dall'inferno dante è sconvolto probabilmente ha sudato freddo milioni di volte ha avuto paura di non farcela tante volte ci dice in questo poema che lui non ce la fa veramente che non riesce a trovare nemmeno qualche volta le parole per dire cosa ha visto un po meno angosciante è il secondo regno che lui attraversa che è il purgatorio è un regno di mezzo perché se l'inferno era un cono rovesciato invece il purgatorio è un monte quindi dovete immaginarlo come un cono messo così in cui dante comincia a muoversi sempre circolarmente ma ascendendo cioè andando verso l'alto e qui sembra veramente un po un videogioco perché deve fare un cerchio poi un altro cerchio poi un altro cerchio anzi diventa quasi uno scalatore diventa quasi uno che avete presente quelli che poi con o con la piccozza oppure si aggrappano diciamo alle pareti che sono veri e propri scalatori lui ogni tanto ha paura addirittura di cadere nel vuoto perché vede che intorno c'è il dirupo c'è un burrone c'è il niente e deve proprio quasi aggrapparsi in certi momenti per appunto continuare a salire ma questo movimento del salire più confortante che lo scendere no scendere significa arrivare come gli accade al cuore della terra al centro incandescente della terra dove c'è il più demoniaco degli angeli caduti c'è satana appunto che era un angelo che poi ha tradito dio ed è diventato il demonio è diventato il diavolo mentre nel momento in cui sale pur avendo timore di cadere sente che sta comunque staccandosi da quel regno dell'inferno e infatti il purgatorio è una terra in cui le anime sono anime che hanno peccato ma che si sono pentite che hanno fatto in tempo prima di morire a pentirsi a chiedere perdono alle persone a cui avevano fatto il male ma soprattutto a dio e dunque queste anime del purgatorio hanno una speranza possono sperare di uscire di lì mentre nell'inferno è impossibile uscire mentre sei nell'inferno condannato per sempre a vivere quel castigo nel purgatorio puoi sperare e questo tema della speranza è fondamentale perché è come se uno potesse davvero attendere magari attenderà decine di anni però può guardare a quella speranza può alimentarla può sperare che un giorno non sarà più lì sono anime che hanno commesso gli stessi peccati delle anime dell'inferno sono stati troppo cattivi sono stati omicidi cioè persone che hanno ucciso qualcuno sono stati capaci appunto di dire il male di fare il male in tanti modi anche a volte contro se stessi punendo se stessi però appunto hanno avuto anche la forza di chiedere perdono e dunque le loro pene che sono simili i loro castigli che sono simili a quelli che si hanno nell'inferno sono castigli un po più tenui cioè un po più leggeri leggermente meno crudi e forti e violenti e soprattutto il paesaggio non è quello di un incendio appunto che non si spegne non è fatto di fuligine di cenere di polvere di fiamme ma è fatto di tinte di colori che sembrano quelli di un paesaggio di collina italiano non so se siete mai stati non so in umbria o in toscana ma anche in certe zone del piemonte il monferrato nelle langhe e magari in autunno avete fatto una passeggiata da quelle parti e c'è questo colore tra il verde scuro e il marrone la terra appunto gli arbusti le piante l'erba così è il purgatorio è qualcosa che somiglia molto al paesaggio della nostra vita della vita della vita reale e lì a dante capita più spesso di incontrare persone che conosceva in particolare gli capita di incontrare un certo punto un musicista una persona che musicava le sue poesie perché accadeva nel medioevo come accadeva anche in epoche precedenti che chi scriveva poesie come dante fosse spesso accompagnato dalla musica quando le recitava in pubblico venivano proprio accompagnate da una base musicale diremmo oggi no come le canzoni appunto e incontra un certo punto questo musico questo musicista che si chiama casella un suo amico e quando lo riconosce naturalmente la lo stupore la meraviglia che si legge negli occhi di entrambi è fortissima perché dante non si aspettava di trovare lì casella e casella non si aspettava di ritrovare lì dante ed è un episodio bellissimo tra i tanti del purgatorio in cui c'è come un incontro d'amicizia tra persone che si sono volute bene nella vita e che non potevi certo sperare di rincontrare lì ma dante se ne va con una speranza molto bella e cioè che casella possa appunto uscire di lì uscire dal purgatorio e magari un giorno trovarsi in paradiso poi gli fa una piccola richiesta di cantare di suonare come faceva appunto quando erano amici quando erano tutti e due sulla terra e lì c'è un momento meraviglioso in cui si sente che appunto questa questo amore di dante per la poesia era anche soprattutto un amore per la musica perché non dobbiamo dimenticarci che questo poema questo racconto è scritto in versi che sono versi bellissimi versi che hanno come una loro musica interna appunto voi conoscete bene il meccanismo ormai della rima e queste rime intrecciate che dante costruisce sono come un esercizio musicale la commedia si potrebbe cantare si potrebbe dire a memoria come facevano magari i nonni o i bisnonni che ne imparavano interi canti appunto a mente sapevano ridirli ecco succedono tante cose nel purgatorio che riportano dante alla sua vita terrena e soprattutto a certi passaggi anche molto dolorosi della sua vita perché era stato un uomo molto discusso soprattutto a firenze la sua città oltre a essere un poeta in qualche modo era anche un uomo politico che aveva preso parte alla vita pubblica della sua città e a un certo punto era stato bandito cioè c'era stato al potere una parte politica a lui avversa che l'aveva poi cacciato da firenze e il purgatorio è un momento di riflessione su questo esilio di nostalgia perché forse proprio tutto una cantica si dice così la cantica sarebbe diciamo così il segmento del racconto no la cantica dell'inferno la cantica del purgatorio la cantica del paradiso appunto qui dante ha nostalgia di firenze a nostalgia della sua città e se la ricorda e vorrebbe tornare ma purtroppo non riuscirà più a tornare alla fine del purgatorio dante è pronto per l'impresa più ardua quella che lo metterà a dura prova ancora più che l'inferno perché dovrà fare qualcosa che nessun essere umano ha mai fatto dovrà appunto vedere dio e qui cambia completamente il racconto cambia anche il colore il tono del racconto si passa da quei colori terreni che vi dicevo a una sorta di luce intensa violentissima come in una giornata di sole pieno in cui tu però cerchi di tenere gli occhi fissi al sole guardi intensamente ma se lo facessi anche con la lampada che ho qui sopra io mi sentirei accecato e dante si sente spesso accecato da tutta questa luce perché è un luogo di meraviglia un luogo di pace un luogo di stupore è un luogo di benessere è un luogo in cui si sentono dei canti bellissimi è un luogo in cui appunto c'è una folla di angeli le anime sono felici le anime sono felici perché sono nella pace eterna nella pace vera nella pienezza della visione appunto di di e sono state anime buone anime che hanno fatto il bene anime che non hanno fatto soffrire nessuno che magari hanno sofferto loro ma non hanno fatto di quel dolore il pretesto appunto per fare il male a qualcun altro cambia anche il movimento che dante fa perché gli succede una cosa stranissima che è quella sensazione misteriosa e magica di perdere peso come se cominciasse a levitare si dice no a fare questo movimento in su avete presente quel gas che si mette nei palloncini alle feste che si chiama elio no che appunto consente al palloncino di alzarsi benissimo è come se dante fosse gonfiato con l'elio perché a un certo punto lui stesso si accogge che il suo corpo è diventato leggerissimo e che lui non deve volare perché non ha ali ma sta ascendendo cioè sta salendo verticalmente verso l'alto ancora una volta di cerchio in cerchio fino a raggiungere il punto più alto del cielo che è dio che è la prossimità di chi ha creato il mondo del creatore del mondo e qui succede una cosa straordinaria dopo che dante ha incontrato tante figure di santi di beati di persone che appunto hanno fatto il bene incontra san francesco incontra san bernardo incontra persone che sono state addirittura capaci di santità come non succede quasi a nessuno evidentemente nella vita no di votarsi interamente al bene sente che finalmente è arrivato vicino alla sua amata beatrice tutto questo viaggio l'ha fatto per lei l'aveva quasi promesso io farò un viaggio lo racconterò e sarà un viaggio che nessuno ha fatto per una donna per te lo fa lo fa dicendolo a beatrice no lo fa per lei e appunto finalmente la incontra a quel punto non c'è più la sua guida la guida che era stata fin lì ad accompagnarlo cioè virgilio ma sarà beatrice a fargli fare questo viaggio così importante verso dio e quello che gli succede è proprio di avere un momento di accecamento dalla troppa luce che gli arriva perché quando tu sei vicino a chi ha creato il mondo arriva una luce che non puoi sostenere con i tuoi occhi ripeto è come quando uno anche solo per guardare un eclissi per fare delle osservazioni non può si accorge che non può fissare con queste pupille il sole deve mettere uno schermo una lente deve mettere qualcosa deve proteggersi dante si accorge che i suoi occhi non ce la fanno a vedere tutta quella luce ad accettare accogliere tutta quella luce e beatrice gli parla lui sposta il suo volto guarda beatrice guarda beatrice che gli sorride e quel sorriso è come se desse alla sua vista un potere magico quello appunto di fissare un punto di luce fortissima che è dio dio dante non se lo immagina come un uomo con la barba come spesso viene rappresentato dio cioè un vecchio signore vecchissimo saggissimo con un bastone una barba se lo immagina come un punto piccolissimo ma di luce intensissima quasi accecante e questa è un'invenzione incredibile noi non dobbiamo ovviamente come dire credere a quello che dante ci racconta è un racconto fantastico però è meravigliosa l'idea che quel punto di luce sia dio ma non basta c'è ancora una cosa più importante da dire che quando riesce a fissare in quel punto lui dentro quel punto vede tutto l'universo dovete immaginarvi che quando riesce a metterlo a fuoco è come se in quel punto ci fosse dice così il universo tutto ciò che per l'universo si squaderna squadernare significa come aprire di colpo un quaderno fare così lo hai aperto di colpo e dentro hai visto in un attimo tutto quando dico tutto significa tutto dal filo d'erba che ho appena fuori qui magari in un giardino a tutti gli animali che esistono a tutti i luoghi del mondo a tutte le persone che in questo momento sono vive nel mondo alle stelle ai pianeti al firmamento tutto in un unico punto ed è come se in un istante lui cogliesse tutto quello che esiste questa è la visione di dio dante racconta nella divina commedia che è questo incredibile poema scritto appunto da questo signore morto 700 anni fa che è finito sulle monete da due euro che è il padre della nostra lingua e che soprattutto è l'autore di un racconto fantasy scritto però sette secoli fa quindi molto tempo fa e forse pochissimi poeti sono riusciti a superare la forza della sua immaginazione tanto è vero che come vi ho già detto sentirete parlare di dante molte volte andando avanti nella vostra vita non solo studiando perché per due almeno due ragioni dobbiamo ringraziarlo la prima è avere scritto questo incredibile storia averla immaginata perché questa è una storia che parla della vita della morte che parla della paura del coraggio del perdono del peccato della passione dell'amore di tutti i sentimenti che esistono dell'amicizia del tormento di andarsene da un luogo che c'è caro c'è tutto non c'è una sola cosa che lui non sfiori delle passioni umane dei sentimenti umani ma l'altra cosa è che ci ha donato una lingua questa lingua che io sto parlando in questo momento in qualche modo esiste anche grazie a questo signore appunto a Dante Alighieri e l'ultimo verso di questo poema dice l'amor che muove il sole e le altre stelle cioè l'amore che muove il sole e le altre stelle perché in fondo questo viaggio è soprattutto un viaggio d'amore e l'amore che muove il sole e le altre stelle grazie a tutti